Lavori in un bel localino sciccoso, Molls. Ora capisco perché ti piace così tanto. La sicurezza sembra piuttosto alta. Sono felice che lo pensiate. Mi piace davvero molto qui, sono tutti così gentili ed è facile andarci d'accordo. Voglio dire, a volte li trovi gli stronzi di turno che allungano le mani sulle ballerine, ma i buttafuori se ne occupano piuttosto in fretta. La notte scorsa un nostro cliente abituale ha provato a toccarmi mentre non prestavo attenzione, ed è stato cacciato così velocemente che c'erano i segni del battistrada dove il suo culo ha toccato l'asfalto. Questo non l'ha di certo fermato nel ritornare, ma così impari a conviverci, credo. Ragazzi, dove state andando? Oh, da nessuna parte. Abbiamo soltanto delle faccende da sistemare. Torniamo subito. Non preoccuparti. Coraggio, Nis. Andiamo a fargli il culo. Non si fotte con la famiglia. No, 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 ragazzi, tornate subito qui! Ora capisco perché, perché ti piace. Perché ti piaccia. Così tanto. Prego, no. No, no, no. La sicurezza sembra sicura. Dai! T'ho detto che lo facevo. No. La sicurezza sembra piuttosto alta. Out. Out, ne ho letto. Coraggio, Nis. Andiamo a fargli il culo. Mi hai trasformato Angel in un chad. Andiamo a prendere questo figlio di puttana. C'è quello dei soliti idioti. No, va, è semplicemente in corsivo. Ok. No, va, è semplicemente in corsivo. Grazie a tutti